Lessing è la difesa della religione naturale. Uno dei temi centrali della filosofia di Gotthold Ephraim Lessing è indubbiamente la difesa della religione naturale. E' questo il tema al centro di opere come il cristianesimo della ragione del 1753 e anche del testo intitolato sull'origine della religione rivelata del 1755. Dicevo il senso delle opere di Lessing è anche quello della difesa della religione naturale fondata sulla ragione e insieme la critica della religione positiva che scaturisce invece dalla necessità di sostenere il potere politico su una religione pubblica. Un'esposizione letteraria di questa tesi oltre che nei due testi appena citati era chiusa nel dramma Nathan il saggio. Nel testo l'ebreo Nathan racconta al Saladino la favola dei tre anelli. Solo uno dei tre anelli dovrebbe essere quello autentico. I tre anelli simboleggiano le tre grandi religioni monoteistiche, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. In verità tutti e tre gli anelli sono soltanto l'imitazione di un anello originario che è andato perduto e questo anello è quello della vera religione naturale e razionale. La riflessione più ampia su questi temi che Lessing viene sviluppando si trova però nel suo testo forse più celebre, l'educazione del genere umano del 1780. Qui l'analisi della religione procede di conserva con la formulazione di una filosofia della storia originale. Nell'educazione del genere umano Lessing assume una prospettiva di mediazione tra quelli che difendono la validità della rivelazione, nonché la sua autonomia dalla religione razionale come Christian Wolff e coloro che invece escludono la legittimità di ogni genere di religione rivelata come Reimarus. Ebbene Lessing nell'educazione del genere umano accetta la rivelazione e però ne rifiuta il carattere soprannaturale. La rivelazione, spiega Lessing, coincide in vero con l'educazione progressiva del genere umano per opera della ragione. Secondo Lessing, infatti, la rivelazione è per il genere umano ciò che la educazione è per il singolo uomo. In ambo i casi lo scopo finale è quello del completo perfezionamento dell'uomo. Questo è il vero obiettivo. Vi è piena corrispondenza tra lo sviluppo del singolo e quello della specie. Tanto il singolo quanto la specie possono pervenire al loro fine unicamente per mezzo di un processo di perfezionamento. Tale perfezionamento nell'individuo si pone come educazione e nel genere umano si pone come rivelazione. E però la rivelazione non è qualcosa di soprannaturale, qualcosa che si contrapponga in modo radicale alla naturalità e alla razionalità dell'educazione individuale. Al contrario, la rivelazione è lo sviluppo della ragione dell'umanità, giacché l'umanità, come il singolo bambino, intravvede il vero solo attraverso la sollecitazione della sensibilità, cioè per mezzo dell'idea di un premio o di un castigo immediato, fino a una fase conclusiva in cui l'umanità si sviluppa in piena autonomia, come accade nell'uomo maturo, che non ha più bisogno della promessa del premio. Ebbene, dice testualmente Lessing, non la verità di cui ci si crede in possesso, ma il sincero sforzo per giungervi determina il valore dell'individuo. L'illusione del possesso rende pigri e presuntuosi, solo la ricerca tiene desti ed insonni. Se Dio tenesse nella sua destra tutta la verità e nella sua sinistra il solo eterno impulso verso la verità, con la condizione di dover andare errando per tutta l'eternità e mi dicesse scegli, io mi precipiterei umilmente alla sua sinistra dicendo padre ho scelto, la verità pura non è che per te solo. Ecco allora che la vera natura della vita umana sta nel tendere alla verità, quello che Platone aveva chiamato Eros, che è il fondamento stesso della filosofia, ed è questo sentimento di chiara matrice romantica che attira Lessing proprio verso Spinoza, cioè verso l'idea dell'unità di tutti gli esseri, il panteismo, questa idea che soprattutto nella fase terminale della propria riflessione Lessing viene maturando. L'individualità via via che sale verso le fasi più alte del suo sviluppo si dilata fino a includere l'universale, cioè fino a farsi en kaipan, uno e tutto con la natura. Ecco che allora per Lessing si addirittura viene nell'ultima fase della riflessione a una forma di aperto spinozismo.